Buon pomeriggio, benvenuti. Siete valorosi a essere qui oggi pomeriggio con questo tempo, noi siamo molto contenti. Il bobo di Sergio Staino compie 30 anni quest'anno, oggi parliamo di 6, è vero Sergio? Ah ma hai preso di sorpresa, non sapevo che avresti parlato di questo. 30 anni, il 10 ottobre, dal 10 ottobre del 79, quindi il 10 ottobre di quest'anno fa 30 anni. Credo sia, forse è l'unico personaggio dei fumetti che ha una data di nascita. Non so la Fulvia di Emanuele Pirella quanti anni abbia. Ma ha sempre la medesima età come tutti i personaggi dei fumetti, non invecchiano mai. Credo che la prima volta, comunque sia uscita purtroppo per me nel 76. Quindi mi pare più vecchia di Bobbo, potrebbero sposarsi. Potremmo effettivamente celebrare oggi il matrimonio fra Bobbo e Fulvia, potrebbe essere una bella cerimonia. Ci sono due bambini, Ilaria e Michele, che ammazzerebbero tutti. Beh, ma Fulvia è carina. Eh, ma no, se lo so, ma è vietato. Poi ha dei bei mobili, ha dei bei divani. Se hai letto un po' di mie storie avrai visto che Bobbo ci tenta varie volte di andare a letto con altre persone che non siano sua moglie, ma immancabilmente va sempre in bianco. Quindi questa è una regola che ho dovuto mettere ferrea, perché sennò distruggevo la famiglia. Con questa storia che tutto quello che racconta Staino è vero, è vero, è vero, a un certo punto devo stare attento a attribuire altre cose, insomma, non a Bobbo. Con chi è permesso a Fulvia gli lo do, chiederò a Pericoli. Ah, già, perché i genitori siete... Siamo in due. Tu e Tullio, certamente. Effettivamente non è questo il tema dell'incontro di oggi, anche se può essere una maniera, anche questa, per parlare di Satira, ovviamente. Questo è il quarto incontro della serie La Fabbrica della Satira. Parliamo, come sapete perfettamente, di Satira disegnata. In realtà l'incontro di questo pomeriggio potrebbe avere Massimo Bucchi un sottotitolo, o almeno una traccia sulla quale lavorare, che è la Satira nel suo contesto. Tu hai una prolusione breve su questo tema, che ci servirà poi per cominciare a discutere. Perché è un libro, però, scusami, su psicoanalisi e cristianesimo? No, questo non è, non sto copiando. Ah, non stai copiando, va bene. Allora, ascoltiamo Massimo Bucchi. No, mi incuriosiva. Prego. No, io volevo parlare di una cosa, in realtà, quando il contesto non è un termine così ambizioso. Il contesto intendo semplicemente il contesto del lavoro dell'autore, il lavoro del vignettista. Però è un contesto che lo censura profondamente. Allora, censurare in che senso? Lo incanala, non gli impedisce qualche cosa. Io nella mia vita professionale non ho ricevuto mai censure. La mia vita professionale si è svolta al 99% a Repubblica. Prima facevo delle cose, poi invece l'ho fatta con più... Anche arrivando lentamente a questo, io non sono entrato a Repubblica come vignettista, ma come grafico. Ho cominciato a fare le prime vignette dopo qualche tempo. Il contesto significa, io volevo vedere anche con alcuni esempi, la differenza tra un autore che produce un certo tipo di vignetta, un certo tipo di immagine, e le varie collocazioni dove questa vignetta viene messa nel giornale. Allora, nel mio caso le collocazioni sono almeno tre. Sono la pagina dei commenti, dove io faccio queste cose che non sono disegnate, che sono ormai computerizzate da moltissimi anni. Poi la pagina dello sport, dove io il lunedì faccio una vignetta sportiva, e una pagina invece sul venerdì, che è un settimanale, il settimanale di Repubblica. Queste tre cose non sono praticamente intercambiabili. Nel senso che c'è un modo di rivolgere, anche questo fa parte di una professionalità, fa parte di un modo di porgere, però significa che il contesto, cioè il contesto del giornale quotidiano, il contesto del settimanale e il contesto della pagina dello sport, consentono o non consentono un certo tipo di linguaggio. Allora, certamente che si può forzare questa cosa. Nessuno dice che non si possa trasportare la politica nello sport, però il contesto è sotto traccia. Si sa perfettamente che il lettore non è preparato a questo. Il lettore che si avvicina alle pagine dello sport si aspetta di sentire parlare di sport, o tutt'al più di lontani echi se i fatti sono così importanti. E questo porta anche a una differenza nella confezione, nella collocazione della vignetta, per pensare a delle soluzioni invece che a certe altre. Qualche volta accade che uscire dal contesto, cioè dire delle cose più originali, diventa molto difficile, perché il risultato sarebbe ovvio, quello di dire io mi batto contro il governo, oppure mi batto contro l'opposizione, mi batto ovviamente paradossale e ridicolo, perché non è che ci siano effetti pratici, cioè uno emette delle vignette, senza troppa fiducia che queste incidano in modo importante sulla politica, però comunque confermano o non confermano una linea. Allora mettendo questo, cioè appunto uno dice io mi oppongo a questo, mi oppongo a questo, cerco di fare una cosa che critichi, e poi scopri che è una cosa che fanno tutti, o comunque è un modo di, fanno tutti anche quelli che vignettisti non sono, c'è un modo, uno dice devo trovare la mossa del cavallo, e questo favorisce un certo tipo di intuizione, perché la satira contiene in se stessa un certo potere premonitore, per cui ci sono delle vignette fatte molti anni prima, o perlomeno alcuni anni prima, che dicono, prefigurano quello che è successo poi dopo, uno andando a ripescare, mentre l'autore stesso lì per lì non se ne rende conto, e invece aveva colto questo aspetto di proiezione solamente perché non si accontentava delle spiegazioni che gli forniva in quel momento l'informazione che gli forniva la società, e questa è una cosa molto interessante. La vignetta dello sport invece, per esempio, è una vignetta che non ha assolutamente nessun contenuto dopo un giorno che è stata fatta, nel senso, deve essere la vignetta che potrebbe essere sulla prima pagina di un giornale sportivo, quindi deve rassicurare tutti quelli che hanno visto la televisione, che quella è l'informazione giusta, che questa cosa si è svolta perché quel terzino non faceva quella cosa che doveva fare, oppure è scivolato, di questa cosa dopo una settimana non resta più nulla, mentre invece della vignetta dei commenti resta e come? Resta nel senso che resta questa traccia ed è la vignetta interpretabile e identificabile anche a distanza di tempo. Per il venerdì, che è un settimanale, quello è un cuscino morbido, nel senso, e non sto parlando del supplemento in sé, sto parlando della funzione della vignetta, come si trova la vignetta lì dentro. È la vignetta nella prima pagina utile, diciamo, del giornale e a un certo punto sa che il venerdì è, il venerdì come molti altri supplementi, io lo chiamo la famiglia cristiana di Repubblica, nel senso, no ma non in senso, come posso dire, non per dileggio, perché la famiglia cristiana è un giornale perfettamente informato, perfettamente, che ogni sei mesi scatena delle polemiche violentissime, per cui viene zittito dal Vaticano, quindi ha una funzione strana, diciamo, difficilmente... Il venerdì non lo zittisce nessuno, però. E allora, comunque, la vignetta, se io voglio affrontare un tema ambiguo, la satira è già di poesia abbastanza ambigua, perché cerca significati dove non ci sono, c'è comunque, io un tema ambiguo, il venerdì è perfetto, cioè ambigua per esempio, voglio fare una vignetta sul terrorismo, è difficilissimo, se io faccio questa vignetta, a meno che non sia una cosa socialmente riconosciuta, il tipo di posizione c'è, posso essere, non sospettato, accusato delle cose più strane, perché il giornale ha sempre delle trappole, dei trabocchetti, cioè se io faccio una vignetta sul terrorismo e la sera alle 11 e mezzo esplode una cosa a Giacarta, io devo saperlo, non devo saperlo, devo averlo saputo, secondo il lettore, per cui io divento un farabutto, oppure divento uno che ha inventato una cosa. Quindi, se voglio parlare di terrorismo, lo faccio sul venerdì, che viene letto nel corso di tutta la settimana, in un modo molto più soft, appunto, in un modo molto meno partecipato, lo trovo anche magari dal dentista, oppure lo trovo comunque, non suscita questo, quindi le cose, anche a livello umoristico, certe cose più dure, si possono mettere tranquillamente, ma non per sfuggire alle conseguenze, per sfuggire agli equivoci. Io ho adesso alcuni esempi che ho fatto, che ho messo nel computer, e ci sono alcune vignette che forse spiegano meglio quello che io pensavo, quello che io penso di dover... questo è Robespierre, questa è una vignetta del 1993, sono andato apposta a pescare delle vignette dove c'è qualche forma di preveggenza non cosciente. Allora, Robespierre dice, in Italia non hanno capito la differenza tra una rivoluzione e una retata. Queste erano mani pulite. Allora, cos'era? Nel 1993 era un'eresia dire questo, perché tutti pensavano, tutti pensavamo anche che le mani pulite fosse stata una cosa che avrebbe, sarebbe un lavacro, una nuova nascita, una palingenesi della politica. Non è stato così, e adesso questa vignetta non solo è ovvia, ma è quasi banale. Però ha un suo potere di preveggenza, ha un suo potere di... Poi... aspetta, qui non è... come funziona questo? Verde. Gli deve procedere verde? Eccolo. Questa è un'altra vignetta invece, questa è una preveggenza a minor raggio. Questa è una vignetta del 2000, cioè di nove anni fa, che succede, è entrato un estremista e ha acceso un mutuo. Allora, questa però fa pensare che delle strane cose, delle strane vibrazioni sismiche nell'informazione abbiano avvertito l'autore che la zona delle banche si avviava verso una serie di vibrazioni, una serie di cose, perché sennò non sono coincidenze, perché questa cosa si ripete molto spesso, si ripete... Questa è Repubblica, Massimo? Sono su Repubblica? Sì, tutto è uscito su Repubblica. Questa era quando D'Alema disse che la Lega è una costola della sinistra, io feci il settimo cavalleghisti con botti. Poi si è dimostrato che non era vero che la Lega era una costola della sinistra, questa è anche una cosa, credo, addirittura del 96, 95-96. E allora c'è questo fatto premonitore, questo invece è un fatto un pochino fuori, ce l'hanno trovato morti in casa dopo tre anni, allora uno si chiede, è il record che prefigura una serie di, come posso dire, di cambiamenti dell'informazione, di maggiore attenzione a certi fatti più drammatici o a certi fatti. Questa è una vignetta per esempio del venerdì, che è quello che dice mio figlio, questa cosa fra l'altro come linguaggio è completamente diversa dalle altre, perché una vignetta così si capirebbe molto male sul giornale, sulla pagina dei commenti, perché ha messo questa? Che c'ha di politico? Che c'ha di... la sua radiografia è pessima, ma la possiamo ritoccare. Che è sulla sanità, però è in un linguaggio che la pagina dei commenti non accetterebbe, diciamo, non... questo come Bianco tu vivrai sul sistema, diciamo, spengleriano sulla crisi del... cioè su un declino, su una forma di declino del... questo invece... gli italiani... leggo male, gli italiani sono 60 milioni e i cinesi un miliardo e mezzo, cioè possiamo chiedere un mutuo? Questa invece è quella che dicevo quello dello sport. E questa a che cosa si riferisce? Qui c'è Ranieri che dice una certa cosa, fra un anno ci si è quasi dimenticati anche del campionato che quest'anno non è stato particolarmente fortunato, quello della Juventus, però la vignetta a quale partita si riferisce? Non lo so, non lo so nemmeno io che l'ho fatta, non mi ricordo... oppure gioca alla tripla 1-2 ex, quando stava licenziando Mancini, diciamo... questo... gli arabi non comprano più, non era il primo tentativo di vendita della Roma, cioè non vogliono sentire parlare di crociati, allora questo è assolutamente incomprensibile, se non... in realtà Totti si era rotto un crociato, si era lesionato un crociato, e allora questa era... ma chi se lo ricorda adesso, se non pochi affezionati. Questa invece è completamente fuori, questa è proprio una fusione, la Shoshara che va fatto una pessima, una pessima cosa. Però come vedete questo è un linguaggio completamente diverso da quell'altro, perché i binari ben oliati della vignetta dello sport portano allo scambio verso un'altra direzione, verso un'altra... tu mi devi dire quando... devo terminare... nel senso... oh, questa invece è una cosa... per me è il succo di tutto quanto... cioè sì sì, democratico, di come domodossola... io semplicemente mi ero... c'era un sovrappiù di fuori assoluto il sentito... cioè non c'è più niente... un passepartout come parola... non c'è più niente che non sia democratico... ora questa cosa finisce per cancellare tutto... quindi uno bisogna ricominciare... bisogna... fare... Ho l'impressione che questo massimo sia effettivamente un bel momento per passare la... sì... la palla... no... poi... certo... ovviamente torna... ne è altre... sì sì... da farci vedere... no, non c'è un altro di vignette... non è altre? Allora finiamo qua... finiamo qua... nel senso che... l'ultima cosa che volevo dire era che... da noi la satira non è mai stata molto... coltivata... cioè nel senso... la satira è venuta... con Forattini... che ha ripreso... per fortuna dei satirici... se no avremo un sacco di concorrenti... sì... no ma le ultime... le ultime vignette che io mi ricordo... erano su Paese Sera negli anni sessanta... le ultime vignette su un quotidiano... poi Forattini riprese a fare delle cose sempre su Paese Sera... però la vignetta è ricominciata... quando Scalfari ha deciso di mettere la vignetta... senza sapere forse che avrebbe messo la vignetta... Scalfari aveva comprato... fra virgolette si fa per dire... il pacchetto della pagina dei commenti... dei giornali anglosassoni... che comprendono tre editoriali... prima non c'era la pagina degli editoriali nei giornali italiani... e in questo pacchetto c'era anche la vignetta... a lui si è posto allora il problema di come riempirla... e non era sicuro che fosse Forattini... poteva essere un altro che lavorava anche lui a Repubblica... e quindi... che non ero io però... e quindi... questa cosa... io temo che quando questi... si apriranno degli spazi... nel senso che qualcuno dirà... mettiamo questa vignetta... perché c'è la vignetta... temo che non sia abbastanza consolidata... l'istituzione della vignetta che è avvenuta... in gran parte anche perché... lanciando la Repubblica era un fatto di concorrenza... era un fatto più di una necessità satirica... della popolazione diciamo... e quindi... vediamo come... aspettiamo le generazioni successive... per vedere come riescono a far fronte a questo... a questo problema... l'istituzione della vignetta... l'istituzione della vignetta è notevole come edizione... effettivamente... perché non si collegano... normalmente queste due parole... la satira come istituzione... ma insomma in questo contesto... di come Domodossolo ci sta... effettivamente molto bene... poi sai... la satira è sempre pessimista... la satira non è umorismo... è anche umorismo... l'umorismo è un pronto soccorso... per uno che ha preso una botta... la satira è qualcuno che... cerca di restituire quella botta... diciamo... la satira si serve dell'umorismo... ma si serve in modo... c'è una vecchia definizione storica... che dice... l'umorismo è ridere perché uno scivola su una buccia di banana... e la satira è ridere perché il re è scivolato su una buccia di banana... non so come i consuoceri... Staino e Pirella vogliono adesso... smistare le loro risposte... decidi tu... no... è una perfidia questa Sergio... come potrei... faccio un ordine poi... allora comincio a Pirella... nel senso che gli... brava... hanno detto brava... rassegnati... brava perché hai scelto... non perché hai scelto me... che hai rotto... è un paese in cui non si sceglie mai... abbiamo il grande sceglitore però... cosa dice Bobo del 25 aprile? cosa ha detto ieri del 25 aprile... delle libertà? ho detto oggi sull'unità... era... Bobo che diceva da oggi... il 25 aprile... è un po' anche di Berlusconi... e Laria commentava... ora ci resta solo che... siano un po' nostri anche i restanti 364 giorni... a tutti... questa è... grazie... Emanuele... per fare un minimo di cronaca di questo genere... giornalistico... la satira politica in Italia... non ha avuto... diceva Bucchi... è una lunghissima tradizione... c'è un libro che era appunto... Satira politica in Italia... che pur allargandosi agli esempi minori... riusciva a mettere insieme... 160 pagine... più in là non si va... nel senso che si torna... a Galantara... Scalarini... autori di Satira... dei primi del novecento... poi si arriva fino ai giorni nostri... ma insomma in realtà... non c'è una tradizione... stabilita... culturale... sulla quale fare... in qualche modo... storia... in Italia... è rinata... credo... con Linus... Linus... era un mensile... diretto dal resto del buono... che nel... 73... 74... improvvisamente... avendo... Schultz... quindi Charlie Brown... avendo Pfeiffer... avendo autori americani molto interessanti... aprì le pagine... a Chiappoli... a Lunari... a me... a Pericoli... all'altan... e via via... incoraggiandoci... in qualche modo... a essere sempre più audaci... si apriva anche un dibattito... su cosa serviva la Satira Politica... che è una chiusura... abbastanza... curiosa... spiritosa... divertente... che io condivido... che la Satira Politica serve soprattutto... a chi la fa... agli autori... a Satira Politica... nel senso che hanno uno stipendio... hanno un incarico... insomma... non hanno una funzione sociale civile... questo soprattutto... devo dire... era corretto... perché era un momento in cui... la Satira... aveva un po' gonfiato il petto... pensava di essere contro informazione... pensava di essere... come dire... una specie di inchiesta... contro i poteri forti... in grado di mettere... della... 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 della sabbia... tra gli ingrenaggi del potere... questa è una pura illusione... la Satira... in realtà... è una specie di... modello consolatorio... non è vero che la Satira... o una vignetta di Satira... vale un articolo di fondo... questa è una cosa che viene detto... un luogo comune... piacevole ridirselo... però è francamente... finto... le cose che facciamo... quando gli articoli di fondo sono... abbastanza... basse di qualità... la Satira può essere anche una... un articolo di fondo... Cioè... possono competere... eh sì... sul fondo del mare... no... la Satira... secondo me... dopo questa specie di... mi ricordo soprattutto... Chiappoli... sentivo investito... da una funzione di inchiesta... eh... i servizi segreti... la P2... in realtà... veniva... come dire... a ricalco... correttamente... non poteva fare altro... delle inchieste fatte su Panorama... su Espresso... Repubblica... e si rivolgeva... a proposito dei discorsi appunto... del contesto... correttissimi... che faceva Bucchi... si rivolgeva a chi già... sapeva tutto... cioè... non riesci a fare... come dire... informazione inaspettata... con la Satira... fai una formazione... che per metà è inaspettata... nella modalità espressiva... ma la fai... per esempio... a Repubblica... a elettori... a Repubblica... su Unità... la fai... cioè... non riesci... credo... a superare... questa specie di... maledetta teoria... dell'informazione... che ti dice... che sei incomprensibile... se dici qualcosa... che non è atteso... per un po'... per metà... e quindi... la Satira appunto... riesce sicuramente... a fare discorsi... diciamo... attorno al potere... e attorno... le scorrettezze del potere... ma la fa... chi è già informato... chi in qualche modo... si diverte... al modo trasversale... inaspettato... obliquo... strabico... che sono appunto... gli strumenti della Satira... che sono spiritori... sono divertenti... ma che sono appunto... che non riescono... e non possono essere... informativi... al cento per cento... noi abbiamo fatto... per anni... sull'Espresso... delle pagine intere... si chiamavano... croniche dal palazzo... fino all'85... 86... addirittura... piegando... quelle pagine... erano bellissime... ti ringrazio... ma piegandole... una funzione persuasiva... quasi pubblicitaria... cercando di convincere... chi le avesse elette... che il CAF... di quei tempi... che è stato l'ultimo momento... in cui ci siamo impegnati... in questa cosa... quindi... Craxi... Forlani... Andreotti... erano il peggio del peggio... prima avevano fatto delle cose... su Leone... Presidente della Repubblica... ecco... ma Leone... l'avete fatto cascare... no... Leone è caduto... perché è intervenuto Berlinguer... eh no... è caduto anche... per le copertine dell'Espresso... che facevate... era un gradigio... è una specie di accompagnamento... Sergio... nel senso che... non sarebbe mai riuscita... la pagina nostra... da sola... se la Cederna... avessi fatto le inchieste... se Berlinguer... non si fosse mosso... ma sarebbe mai riuscito... a far dimettere Leone... cioè... secondo me è una specie di... così... illusione... un po'... da protagonista... immaginare... che le pagine di Sati raccontino... e non parlo tanto degli esempi... dei triori... che ti chiede la vignetta... e dell'autore che la dà... a noi non è mai successo... eh... ma... non... non è possibile che... queste nostre pagine... che hanno una funzione... ripeto... di accompagnamento... hanno una funzione... di essere sintetiche... di essere in qualche modo... concise... di essere uno slogan... eh... di essere un annuncio pubblicitario... eh... contro qualcosa... ma non riescono a fare un discorso approfondito... per questo dico che non riescono ad essere un articolo di fondo... motivato... oppure un'inchiesta... che va a cercare i nomi e i cognomi... quindi... come dire... una funzione sicuramente molto importante... un po' ancillare... ecco... non una funzione di punta... eh... eh... di una battaglia politica... sei d'accordo Sergio... funzioni ancillare... non incidono... diceva prima Massimo Bucchi... sì... sì... sono... eh... sostanzialmente d'accordo... possono incidere più o meno... anche tenendo conto naturalmente... del media... in cui poi si esprime questa... è chiaro che... le mie vignette che faccio sull'unità... hanno queste caratteristiche... in larga misura consolatorie... perché... si rivolga... chi compra l'unità... faccio una vignetta contro Berlusconi... chi compra l'unità... si suppone... che con molte probabilità... sia contro Berlusconi... insomma... dico... oggigiorno siamo un po' confusi tutti... però... qualche chiarezza... un po' grossolane... rimangono... insomma... ecco... lo stesso... lo stesso... Berlusconi... non se la prende più di tanto... se se la prende... se la prende in generale... col quotidiano... accusandolo appunto di essere... un quotidiano omicida... e così via... ma... però la possibilità... l'unica cosa che abbiamo... è aggiungere... qualche visione inaspettata... ogni tanto ti capita... per questo lavoro... essere abituati con il nostro cervello... a guardare sempre dietro agli oggetti... sotto i tappeti... vedere dov'è l'ipocrisia... dove si nasconde... sicuramente a volte... capita che l'effetto... comunque di spiazzamento... si ottiene... naturalmente... molto più spesso... nei confronti della tua parte... che nei confronti del governo... insomma... in genere... con Bobo... mi capita più di trovare... delle situazioni di tensione... e di imbarazzo... con i miei compagni di viaggio... piuttosto... a volte... che con gli avversari... verso i quali c'è comunque... un comune sentire... di avversario... dipende dal mezzo... vignette bellissime... o battute bellissime... o barzellette molto belle... raccontate su un giornale... appunto che va in mano... a chi è già perduto... alla causa governativa... non contano... se questa stessa cosa... anche di bassa qualità... in un determinato momento... come è successo con Beppe Grillo... va in prima serata... proprio della rete 1... di sabato... una barzelletta... sufficientemente banale... e voi ve la ricordate tutti... era il momento di Craxi... tutta la delegazione... di 500 socialisti... in Cina... tutti ne avevamo parlato... era stata una cosa... molto enfatizzata... era questa valanga... di socialisti italiani... andati là... e la barzelletta raccontava... che a un certo punto... Craxi chiede al primo ministro cinese... ma voi qui siete tutti socialisti... ma tutti tutti tutti... tutti tutti... un miliardo di cinesi... tutti socialisti... scusate... ma allora... a chi rubate? questa era la... era... siamo... siamo negli anni 80... ovviamente... quindi ora... i socialisti sono cambiati... sono anche diminuiti... e... e... capito... questa è la... detta... su Rai 1... voi sapete cosa è costata... Beppe Grillo... insomma... l'allontanamento definitivo... da tutti i canali televisivi... poi lui è stato talmente intelligente... che ha rovesciata... questa sua cacciata... in una forma di autopubblicità... poi il pubblico l'ha amato... ha riempito teatri... e quindi... tutto sommato... forse è stata anche la sua fortuna... però... l'inizio è stato sicuramente... molto... 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 molto traumatico... io considero la satira... comunque... una delle forme più civili... che si possono essere... per combattere il potere... perché... in genere... si risponde... a una... ingiustizia percepita... con una forma... non violenta... una forma... satirica... una risata... uno sberleffo... un'imitazione... chiunque fa satira... insomma... tutti voi avrete fatto satira... se vi siete trovati da ragazzi... in una situazione... in una classe a scuola... in cui c'era un professore... particolarmente imbecille... e ottuso... la prima cosa che si fa... il ragazzo lo imita... prende... vede come cammina... come parla... lo si prende in giro... magari se qualcuno sa disegnare... gli evidenzia... degli elementi... non perfetti... nell'armonia del suo corpo... insomma... quella è già... una prima forma di satira... che effettivamente... fa bene a chi la fa... come diceva Emanuele... in questo senso qui... perché... ci aiuta... se non altro... a non farci venire... l'ulcera... insomma... e certo... quando questa viene percepita... dall'oggetto... della satira... qui dipende dalla situazione... e... si possano passare... anche momenti molto terribili... insomma... se noi guardiamo la situazione... dei nostri colleghi... in Iran... in ambienti di questo tipo... insomma... sono veramente... terrificanti... insomma... rischiano in continuazione... la morte... per una vignetta... considerata blasfema... o una vignetta... contro il potere... c'è... un perverso rapporto... qui forse si entra più... il tema della biennale... insomma... un perverso rapporto... fra la satira... e poi... la democrazia... è il livello di democrazia... in cui si... 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 effettua... in cui si fa... in cui si produce... questa satira... ecco... perché... una... una società... dove c'è... una grande libertà... di far satira... dove non c'è nessuna... non censura... dove chiunque... può dire tutto quello che vuole... sul potere... lo può prendere in giro apertamente... è sicuramente... una cartina... al tornasole... per... per... giudicare... positiva... questa società... probabilmente... una società... molto democratica... è... converso... laddove la satira... è perseguitata... è vietata... e compagnia bella... la... 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 la società è sicuramente... invece... oscurantista... e reazionaria... esiste il problema... che quando... c'è un'azione... contro la satira... non si vuole la satira... si abbassa... il livello... di qualità... della satira stessa... sufficiente... a far scattare... l'ironia... e l'umorismo... cioè... fare satira... sotto un regime reazionario... è... da un punto di vista... squisitamente tecnico... più facile... che sotto un regime democratico... poi... è difficile farla girare... è difficile... probabilmente... è impossibile pubblicarla... però... basta molto poco... in un sistema reazionario... proprio perché... c'è questo divieto... paranoico... assoluto... nei confronti... dell'autore satirico... basta molto poco... per far scattare... il meccanismo... l'ultimo stadio della satira... sono le barzellette... se voi pensate... al nostro... passato fascista... in cui... i giornali satirici... erano tutti vietati... se non quelli... alcuni di regime... giravano... barzellette sul duce... che funzionavano moltissimo... meccanismi molto semplici... ripetitivi... oggigiorno... le stesse verzellette... le ritroviamo... a Cuba... le ritroviamo... in Iraq... le ritroviamo... hanno fatto il giro del mondo... sono... i meccanismi... sono un po'... gli stessi... un... un esempio... a cui pensavo... venendo qui... molto significativo... anche nell'oggi... è un paese... particolarmente... eh... poco democratico... da questo punto di vista... che è qui vicino... si chiama... stato della città del Vaticano... per esempio... e... voi sapete... che questo paese... è praticamente... una monarchia assoluta... elettiva... a suffragio limitato... questa è... la definizione... esatta... del tipo di cosa... ecco... essendo una monarchia assoluta... eh... come capita... in queste situazioni... esiste un unico organo di stampa... che si chiama... l'osservatore romano... un organo di stampa... che per principio... è sempre dalla parte del dittatore... cioè... io non ho mai visto... questo organo di stampa... che abbia qualche volta... preso le distanze... dal capo dello stato... della città del Vaticano... ed è un giornale... in cui assolutamente... non vedete mai... una vignetta... per principio... non esiste... ecco... eppure dice... allora non fanno satira... eh... poverini... non la possano pubblicare... però la fanno... nascono barzellette... di qualità bassa... però... la situazione è talmente reazionaria... talmente oscurantista... che pur avendo una qualità molto bassa... funziona molto... ecco... una delle ultime uscite... è quella... dove il capo di questo stato... che è un signore... che attiene una certa attenzione... all'eleganza... eh... si fa baciare la mano... come si usa in questo stato... da un ambasciatore... di uno stato straniero... questo ambasciatore... per essere particolarmente... ruffiano... nei suoi confronti... gli dice... ah... che bell'anello... Santità... e Santità... guarda... dice... è vero... ho anche gli orecchini... ma non mi fanno... non mi fanno mettere... ecco... io dico... se dobbiamo fare... una barzelletta... su Obama... bisogna lavorare... molto di più... guardate... ci vuole molta più fatica... per riuscire a fare... una bella barzelletta... su Obama... l'avbronzato... l'hanno fatta... è quella involontaria... quella... la satira della destra... quindi c'è la satira involontaria... insomma... l'avbronzato... se l'è fatta... su se stesso... insomma... chi ha detto... quella parola... comunque... la barzelletta... la barzelletta... appunto... è un modo di trasmissione... orale... un modo di rapporto... conviviale... però... sulla stampa... l'unico modo... per aggirare una serie di cose... la mostra del cavallo... per esempio... mi ricordo... una vignetta di Federico Fellini... che lavorava a Marco Aurelio... perché... nei tardi anni 30... ci lavorava anche Steinberg... a Marco Aurelio... lui fece una vignetta... meravigliosa... che... diceva tutto... sulla retorica... sulle cose... che però... non si capiva... la vignetta era questa... c'era un professore universitario... che diceva... vedete... la parola cavallo... viene dal latino... cav... che vuol dire cav... e allo... che vuol dire allo... e questa era... una presa in giro totale... nei limiti in cui si poteva fare... nei limiti in cui si poteva... vabbè... noi non abbiamo... una tradizione satirica... nel senso... che non abbiamo... una scuola satirica... cioè... io che credo di... capirne abbastanza... di vignette... come segno... come cosa... anche se non disegno personalmente più... da parecchi anni... io vedo delle vignette americane... e se non so da quale giornale vengono prese... se le vedo su internet... per esempio... io non riesco a distinguere un autore dall'altro... ognuno ha fatto un suo... loro non ci sono... un suo istituto d'arte... un suo corso di formazione... per due, tre, quattro, cinque anni... poi entra in un giornale... e comincia... ho conosciuto qui in Italia... un... Andersen... che è di un piccolo giornale... non mi ricordo di quale è stato... il quale aveva appena vinto il Paliz... era 34 anni... perché... lì c'è una valutazione... sarà voler... come so dire... in qualche modo... attutire la satire... dargli una... togliergli questa patente di... mito... di sciamanismo... però comunque... è un fatto che viene... è erradicata in questo modo... e... io credo di aver... lavorato... dopo i primi tempi... in cui mi ero avvicinato... anche con un pochino di timore... a questo prodotto... credo di aver rinunciato... intanto... quello che mi ha indotto a rinunciare al disegno... è stata la mia esperienza pubblicitaria... io per molti anni... ho lavorato in un'agenzia pubblicitaria... anzi... in due zone... diciamo... e allora... perché... non far... non dare più importanza... all'immagine esterna... all'oggetto UV... a quello che viene suggerito dalle circostanze... secondo me... io che non sono neanche particolare... non ero mai stato soddisfatto particolarmente dal mio disegno... ma comunque... disegnare una bottiglia di Coca Cola... va bene... è un disegno... poi... se io ho la fotografia... di questa bottiglia di Coca Cola... è più importante... riesco a veicolare altri significati... se addirittura... ho la pubblicità della Coca Cola... quello è il massimo... per dire quello che voglio dire... se la Coca Cola... entra in questo discorso... con i suoi livelli simbolici... con i suoi livelli... di potenziale espressivo... che esistono... in ogni... quindi... secondo me... trascinando... delle icone... dall'esterno... come sul computer... oppure... delle immagini... retrodatate... ma che perfettamente... esprimano... quello che... che uno vuole esprimere... è come il nano... che sale sulle spalle di giganti... riesce meglio... ad esprimere... riesce meglio... a lavorare... riesce meglio... a comunicare... quello che vuole comunicare... e soprattutto... può fare... con più facilità... può accostare... degli elementi... e fare quel famoso... salto del cavallo... che è quello... di quando uno si diverte di più... ogni tanto... mi capita... diciamo... che una volta... ogni 4-5 anni... mi diverto molto... su una delle vignette... che ho fatto... perché se no... ora ce lo fai lì davanti... il salto del cavallo... sì... ma non pensare di sfuggire... no... perché il... il divertimento... è nel... nel lavoro... ogni quanto ti diverti Massimo? quanti? ogni quanto ti diverti? ogni 4-5 anni... non è tantissimo... una mia vignetta... no... ha risultato finito... ovvero questa vignetta... è rido... diciamo... oppure mi viene in mente... è rido... quella... ma però... la vignetta per me... non è un'intuizione folgorante... è una cosa... un frutto di... 3-4-5-10 ore di lavoro... senza lavoro... non c'è vignetta... cioè uno... se la media... è di 8 ore... per fare una vignetta... se uno ne lavora 4... fate le vignette inferiori... ma il lavoro... a livello di vita... non a livello di settimana... o di mese... cioè uno prepara dei materiali... come prendere l'arco voltaico... uno deve mettere... i due pezzettini di grafite... collegare la corrente elettrica... e far avvicinare i due poli... in modo che la scocchi la scintilla... e l'intensità della scintilla... e il suo chiarore... dipende dalla qualità... di quello che ha messo dentro... e dalla ricerca... perché può darsi che... uno va a fare delle prove... sulla corrente elettrica... da qui non venga corrente... quante volte uno arriva... a una certa ora della sera... quando sta per suonare la campanella... perché molte vignette... sono incomprensibili... vengono male... sì ma... suonava la campanella... la notizia è arrivata due ore fa... ognuno ha i suoi tempi... e allora... quante volte... a un certo momento uno si accorge... di aver sbagliato tutto... che però c'è un percorso... sotteso a questo... che non ha colto... e per cui riesce a spostarsi... in un'altra zona... riesce a spostarsi... perché poi la vignetta... non si può fare la mattina... la vignetta va fatta... pomeriggio... la sera... quando il giorno... si è già caratterizzato... come contenitore di notizie... allora è tutto chiaro... la mattina uno può fare una cosa... e che la sera... ha un altro significato... che il giornale è... l'effetto domino... casca il primo tassello... cascano tutti gli altri... uno può anche lavorare... a pagina 357... ma se in quel giorno... c'è stata... un'esplosione atomica... se quell'altro giorno... è successa una cosa clamorosa... un colpo di stato... quella è la notizia che domina... tutto il giornale... e la vignetta... come anche altri... assorbe come una spugna... quei significati... e quelle cose... e quindi... è a grave rischio... di distorsione... di incomprensione... o di devianza... diciamo... a prima venerdì... quanti giorni prima lavori? sì... a prima venerdì... a prima venerdì... una settimana prima... quindi devi... quindi devo anticipare... per questo anche... è più... questo me l'ho dimenticato di dirlo... ma è importante... per questo è più... diciamo... è più lasca la vignetta... cioè nel senso... lascia apertura... più morbida... per certi aspetti... di quello che può essere... un intervento diretto... un intervento... un intervento... un intervento diretto... è sempre più... poi si smussa... perché arrivano altri significati... altre cose... e maggior comprensione... di quello che è accaduto... Certo... Mentre voi Emanuele... con Tullio Pericoli... quanto... in anticipo... lavorate... e anche ovviamente... questo... due risposte... una... questa domanda... e una domanda che non ho mai fatto... cioè ti dico... ti racconto una cosa... che non ho mai chiesto... eh ma... naturalmente... te la stavo per fare... qualunque sa sia... certo... non è più satira politica... Fulvia sono... come dire... i racconti... colti... una possibile serata... tra amici... tra gruppi di persone... eh... messi un po'... come dire... in modo... in modo ambiguo... se possibile... divertente... quindi... nei momenti in cui si parla molto di Berlusconi... capita di apparire come vignetta di Satira Politica... perché di Berlusconi si parla... cerchiamo però anche parlare di libri... parlare di film... parlare di altre cose... delle cose che si vedono in televisione... cioè di riprodurre un po'... quindi... il chiacchiericcio... eh... serale... scusami... il chiacchiericcio serale... sui radical chic... diciamo... per usare questa parola... cara... a molti... avrebbe senso... su un altro giornale... con un contesto... come dice Bucchi... diverso... ti do subito... allora... risposta... alla domanda che non ho mai fatto... Mauro ci aveva chiesto... non te ne ho fatte quanto... no... è sempre la stessa... Mauro direttore di Repubblica... ci aveva chiesto... di fare una fulvia... in prima pagina... ne abbiamo... discusso molto... con Tullio... con Pericoli... e abbiamo deciso di non mettere... questa... fulvia... che è riparata... nelle pagine letterarie... così come in qualche modo... secondo me... i commenti di Bucchi... sono più preziosi... la pagina 8... che se non fosse... non è la prima pagina... la prima pagina... è già più volgare... già più stillata... richiede già un intervento... più banale... è un intervento a gamba tesa... la prima pagina... è un compito terrificante... nel senso che... non c'è libertà... nel fare la prima pagina... non c'è libertà di invenzione... non c'è libertà di niente... abbiamo la notizia... la vignetta deve stare... sulla notizia principale... c'è anche la notizia politica... è più faticosa... ma è bello ragazzi... lavorare in prima pagina... io sono d'accordo... sul discorso... della protezione... per certe vignette... infatti fossi Mauro... metterei LK... in prima pagina... e Altan dentro... ma LK c'è stata... eh... certo... c'è stata... in prima pagina... va benissimo... anche io metterei LK... ha una satira... proprio... caldissima... forte... ma non perché è più volgare... al contrario... si riesce... riesce... a colpire immediatamente... sulla notizia... dell'ultimo ora... è importante... Altan... rappresenta un mondo... è tutto più profondo... è tutto più legato... a una cosa più epocale... e quindi... meno adatto... a mio avviso... a una prima pagina... in cui uno cerca... eh... l'orientamento... rispetto alla situazione... di quel giorno... sì... la prima pagina... come dire... la trincea... è la prima linea... e quando dicevo più volgare... non volevo essere un giudizio... di qualità... voleva dire... che doveva essere... in qualche modo... più palmare... più frontale... più di intervento... e... non abbiamo ritenuto... di essere... o noi capaci... o fulvi in grado... di reggere... il commento bruciante... la prima pagina... l'abbiamo tenuta... riparata dietro... perché appunto... il contesto è la cosa... sono d'accordo... che LK potrebbe stare... in prima pagina... e Altan potrebbe stare... nelle pagine più interne... perché ha bisogno... di essere più riparato... insomma... e come... no... sono stato chiamato... solamente... da Scalfari... due volte in prima pagina... quando lui stava litigando... con Forattini... che... io... per un altro litigio... andai in prima pagina... prima ancora di Forattini... che lui faceva la pagina... dei commenti... però non sono... io... ho scritto una lettera a Scalfari... dicendo... guarda... se vuoi una vignetta di prima pagina... me la chiedi... come vignetta di prima pagina... cosa che ha gli atti di Repubblica... se tu... se tu... mi porti una vignetta... dalla... dalla pagina dei commenti... in prima pagina... è un'altra cosa... e non... non funziona più... assume altri significati... lo stesso capita a me... con l'unità... deve essere diretta... in prima pagina... cioè... deve avere... deve... auto... identificarsi immediatamente... deve raccontare subito... invece... nei commenti... puoi anche pensare... a notizie... a climi... di qualche tempo prima... proiettati nel futuro... uno può scegliere l'argomento... invece... prima pagina... è costretto a parlare... dell'attualità... sì... anche perché... tu raccontavi prima... la lanciata di Repubblica... a me è successo di fare la campagna di Lancio di Repubblica... quindi... di avere Scalfari... più giovane... e anch'io... che mi illustrava il menabò del giornale... è ancora da farsi... e... il giornale quale si ispirava in realtà era Le Monde... quindi la vignetta... lui la vedeva... come un intervento grafico... che serviva da spezzare... tutte queste pezze immattonate... di cosa scritta... eh... vignetta... senza parole... perché a quei tempi... Le Monde non aveva... vignetta con parole... con la scalia... con dialoghi... è vero che Forattini... per un po' di anni... le ha fatte così... poi ha cominciato a mettere le parole... a danno suo... perché uno dei giochi... che più gli piaceva... era il gioco sulla verifica... punto... la verifica... anche su Paesera... le parole non le usava... le usava pochissimo... poi ha cominciato a usare le parole... quando è arrivato alla stampa... nell'82... che era in prima pagina... era la prima volta che andava strutturalmente... in prima pagina... poi anche quando tornò a Repubblica... rimase in prima pagina... in prima pagina... non poteva fare la vignetta muta... perché la vignetta muta... non avendo definizioni lessicali... assorbe troppo del materiale che ha intorno... è curiosa questa storia... quasi una cosa filosofica... ma si impregna... dei vari temi... allora bisogna... con le parole bisogna... circondarla... delimitarla... con una siepe... e dire che questa vignetta... vuol dire esattamente questo... esattamente quest'altro... ma forse non è la mia paranoia... dire questo... no no... ma è vero... no... la cosa di cui non si parlate... come mai... noi siamo tre... come dire... di capelli non più neri... come mai non ci siano dei giovani... che facciano questa cosa... come mai su internet... sui blog... le vignette non ci sono... no... perché non c'è mercato... non c'è mercato per i giovani... ma il mercato viene dopo... non è che abbia fatto... vanno... ci sono molti su... su internet... è un genere che sta morendo... si... massimo... è un genere che sta morendo... cioè la vignetta... di statica politica... la vignetta di statica di costume... è un genere che in Italia... sta languidendosi... e dolcemente morenda... si... assolutamente... tant'è vero... su... appunto... sui blog... che noi possiamo leggere... vediamo delle cose scritte... vediamo... dei filmati... delle cose fatte col telefonino... delle cose anche spirituali... su youtube... e via via... ma... non più l'intervento... figurativo... scritto... come invece... eri tempi nostri... insomma... io sono entusiasta... del dibattito che si automodera... devo dire... eh... per me... è bellissimo... state dicendo delle cose... molto sofisticate... troppo... troppo... vero... no... fai fare qualche domanda al pubblico... andiamo... io... allora... tutte le domande che non ho... non ho fatto... almeno una... se posso... una... ti prego... no... nel senso... molto sofisticate e molto tecniche... che entrano molto proprio il... come è giusto in questo contesto appunto... molto nel dettaglio... del vostro mestiere... del vostro lavoro... la domanda però che si pone a questo punto... è se... la satira... eh... disegnata... la vignetta... o la satira in generale... anche quella scritta... forse addirittura quella televisiva... non sia a sua volta un linguaggio... talmente sofisticato... talmente complesso... che... si rivolge... ai pochi... che sono in grado di decodificarlo... cioè... la satira è un genere... di elite... come ha detto... nel primo degli incontri di questa serie... giovedì sera... Michele Serra... non la satira... i giornali sono un'elite ragazzi... quello è il problema... noi... noi... non facciamo che... che... essere... al traino... di... di... di un... di un linguaggio... quello appunto... del giornale quotidiano... che è diventato... di... di elite... non è una parte minima... della società... che acquista giornali... poi... ognuno... ne acquista tre o quattro... due o tre o quattro... di giornali... e vai a vedere... quante persone sono... che leggono giornali... per questo siamo... no... Però Sergio... il grande tema... di... a chi sto parlando... a chi stiamo parlando... bisogna porcelo in ogni momento... no... perché se tu parli... ai tuoi... sempre... soltanto... e comunque... come è forse inevitabile... vista la sede... eh... nella quale la satira... può esercitarsi... rimangono fuori... tantissimi... eh... ai quali non riesci ad arrivare... e diciamo che... il contesto complessivo... politico... eccetera... in questo paese... eh... lo sottolinea... anche drammaticamente... questo... hai... tre autori... che si caratterizzano... comunque... per non fare una satira... fondamentalista... che si rivolge... con le sue certezze... ai suoi... ai militanti... ai lettori di quel giornale... cioè io... una delle contraddizioni... che ho con... 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 con l'amico Vauro... che peraltro... insomma... siamo legati da amicizia... trentennale... eh... però... siamo diversi... insomma... perché... Vauro sul manifesto... o anno zero... e là... spara delle cose... che sono... o così... o pomì... insomma... quelle cose... se la pensi così come lui... sei molto gratificato... dalla cannonata che ha sparato... ma se non la pensi come lui... non è che ti inocula... un dubbio... un'idea... una riflessione... per cui tu possa... in qualche maniera... maturare idee diverse... da quelle che hai... o comunque aprite altre... altre porte... altre situazioni... tutti noi lavoriamo... invece mi sembra... con un tipo di satira... che necessariamente... proprio per il luogo su cui la facciamo... raggiunge un numero limitato di persone... belle persone... colte... gente che legge... che segue comunque... i sviluppi della società italiana e mondiale... quindi non è che parliamo... a gente da poco... insomma... una bella... una bella... una bella elite... ecco... però... parliamo... credo... almeno al tentativo che... che io... io sento... non solo in me... ma anche in loro... c'è sempre questo atteggiamento... di solleticare certe intelligenze... insomma... di non andare lì... con il piattino confezionato... cioè... io vedo... quando faccio una vignetta... in cui è... piattamente... anti-berlusconiana... anti-governativa... senza aggiungere... nessun elemento... di... di... quantomeno... di un fremito di intelligenza... all'interno di questa costruzione... dice... vabbè... sì... è contro Berlusconi... insomma... ma che se ne importa... questa è la... ma... il luogo non è anche una limitazione... certe volte... cioè... non vi viene voglia ogni tanto... di andare a cercare altri luoghi... ma... io lo faccio... sto andando... sto cercando di andare a Strasburgo... ora... ma... tu o Bobo... scusa... chi è che sei candidato... Sergio... aspetta un attimo... Bobo... un po'... non c'ha documenti... cioè... non ha la carta d'identità... non ha la carta d'identità... c'ha una data di nascita... un luogo... tutto... ma... gli manca... la parte... quella che conta nella società... e... è... 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 questo è il problema... quindi ti tocca farti a leggere a te... sì... al posto di Bobo... tocca farmi leggere... questo... questa la vedo molto dura... c'è stata mia moglie... quando... mi ha scongiurato... fino all'ultimo... di non fare questo passo... mi ha detto... prenderai 50 voti... ed entrerai in depressione... cosa molto probabile... ha detto... no... ti giuro... neanche fossero 45... entrerai in depressione... su questa promessa... mi ha detto... allora... però le reazioni... alla tua candidatura... sono state eccellenti... no? sì... insomma... perché... perché... io non mi fido mai... di queste reazioni... perché le reazioni... sono di amici... di persone... capito... che dicono... bravo... io ti voto... ti voto... entrano altre... altre... sollecitudini... non lo so... la cosa... la cosa mi diverte... insomma... io lo prendo con molta... con molta... è partita... come un'opera di beneficenza... che mi avrebbe portato... forse... a avere un premio... alla notte di Natale... insomma... perché era... era fatta proprio... nel senso di dire... aiutiamo questi poveracci... a raggiungere il 4%... perché... perché... perché è una bella forza... insomma... mi sembra... in un paese... dove... dove... c'è qualcuno che piglia in sala... è strano... e... capito... quello era la ragione... si diceva... allora... voi lasciate fuori dalla porta... la vostra eredità marxista e socialista... no... se ne avete ancora... la si aggiungeva... voi lasciate dalla porta... la vostra eredità cattolica... religiosa cattolica... e unitevi... ecco... da quest'altra parte... non mi sembra che sia stato fatto così... soprattutto nel momento in cui... passati i primi tempi... in cui si è discusso... si è arrivati a concretizzare... questo partito democratico... è venuto fuori un Papa... Dio buono... che ha dichiarato guerra... allo Stato italiano... ha cominciato a sguinzagliare... cardinali contro Deone... da tutte le parti... a mettere in dubbio... le leggi dello Stato italiano... a volerle modificare... a volerle cambiare... con quegli altri cattolici dentro... che dicevano... ma se ce lo dici il Papa... come si fa... a dare diretta... al segretario del PD... ed erano... e gli altri... dei DS... che dicevano... insomma... se non possiamo mica andare contro il Papa... altrimenti non ci votano più... e poi rompiamo l'unità... chi ci ha rimesso... a mio avviso... la laicità dello Stato... allora... c'è un gruppo... che si sta caratterizzando... squisitamente laico... perché il punto in comune che hanno... è questo... ci sono tanti... che... delusi... da questa situazione... del PD... hanno deciso... di non votare... ed è un peccato... non votare... per uno... che è minimamente sinistro... sappiamo che è una sofferenza... non votare... perché ci piace partecipare... allo sviluppo... e alla modifica della società... allora abbiamo usato questa idea... se... prima di non votare... e dare un segnale... non votando... dato un segnale... votando... una forza laica... che stenta arrivare al 4%... e che si è unita... e che cerca... mi è sembrata una cosa... molto... bellina e generosa... ecco... non mi immaginavo... che... cioè... mi immaginavo che mi chiamasse... Franceschini... e mi dicesse... grazie Stein... stai facendo una cosa... no... non ti ha chiamato? no... non sono mai chiamato... ma... come avrai letto... mi stanno minacciando di aspellere al PD... ora... l'unica cosa che verrà... forse a mio vantaggio... ma soprattutto a loro... è che... in questa confusione totale... che si chiama PD... non trovano più a Firenze... il registro... dove sono... dove sono registrato io... questa è satira Sergio... però eh... ma la dice lunga... anche lo stato di cose... capito... quindi... sono in dubbio... fra due vignette... su fare... cioè... fare una scena... tipo... all'Abruzzo... tipo... chiamarla PD... e da sotto le macerie... viene fuori una voce... che dice... ti... 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 ti espello... che è una cosa... l'altra vignetta che ho fatto... eh... che è uscita... l'hanno pubblicata il riformista... era... era... rispondeva... se dietro la porta... c'è ancora il PD... molto bene... perché... è l'ultimo... visto che è l'anno... gallineano... farò... un bobo... che viene cacciato... dal PD... e lui andando via... dice... eppur si muove... esatto... funzionano anche a raccontarle... non soltanto a disegnare... ma le recito ben io... ma infatti... c'è una scuola di Paolo Poli... Paolo End... sì certo... c'è tutta la scuola... dei Paoli... sì... la scuola dei Paoli... Manuele Pirella... qual è l'altra domanda... che non ti ho fatto... alla quale vuoi rispondere... stavi commentando... si candida anche Fulvia... cioè... stiamo parlando oggi... della fabbrica... della satira... che si candida... citavo... questa biglietta straordinaria... di Massimo Bucchi... proposta appunto... del PD Democratico... come Dicomo e Domo Dossola... che mi sembrava... la morale della favola... del racconto di Sergio Stein... esatto... allora... facciamo... un giro di domande... dal pubblico... se ci sono... ecco... vedo delle mani che si alzano... credo che ci siano anche dei microfoni... che arrivano... ecco... signora... buonasera... siete bravissimi... complimenti... è veramente un piacere ascoltarvi... e vorrei sapere... da Staino... cos'è sto partito... dove si candida lui... ahia... ahia... la marchetta l'ha fatta... la marchetta è completa... era un comizio... era un comizio... era un comizietto... allora... se lo dico diventa veramente un comizio... si chiama... Sinistra e Libertà... è formato da... i Verdi della Francescato... i socialisti di Riccardo Nencini... la sinistra democratica di Claudio Fava... e la sinistra che è uscita da rifondazione di Nichi Vendola... io... la cosa mi è stata chiesta da Nichi Vendola... la cosa è stata strana... perché è quasi un segno del destino... questa richiesta di Nichi Vendola... è arrivata mentre io stavo litigando con mia figlia... così come succede tra Bobo e Laria... saprete forse che insomma... tutta la famiglia è vera... insomma Bibi e mia moglie che è qui stasera... forse l'avete anche riconosciuta dai disegni... i due figli sono... si stanno scondendo sotto una poltrona... per il resto tutto bene... passano gli anni ma rimane timide... i figli sono cresciuti molto... però insomma... soprattutto Laria ha questo rapporto molto... così sanguigno con me... per cui è la prima cosa che mi ha detto... quando ho cominciato un po' la campagna elettorale... mi ha detto... non credimi di convincere a votare PD... io non lo voto più... quindi è stato fra quelli che... proprio... ha messo come posizione questa cosa... ha detto... sto invece pensando a... a votare vendola... e mi ha portato una serie di ragioni... per cui era però... tu hai un edipo talmente... preoccupato... che per far contenta a tua figlia... ti sei candidato... no... mi ha convinto... alla fine mi ha convinto... mi ha mostrato... tantissimi amici suoi... della sua età... insomma... gente di 25... 30... 35 anni... che... effettivamente... era inferoscita... contro il PD... per tutte le... così... le lacerazioni che ci sono state... insomma... sul piano... della... della bioetica... sul piano della laicità... sul piano... lei stessa... insomma... sta vivendo un dramma personale... perché... lei si accompagna con... sono innamoratissima... del suo compagno argentino... con cui vive a Roma... eh... però... per loro... per loro principi... per loro convinzione... non si sono sposati... convivono... e... lei ha cercato... di fare ricorso... a problemi... ad avere bambini... alla... la fecondazione assistita... e ha scoperto... che è tutta... una situazione... per cui... non essendo sposati... non possono farlo... dovrebbe andare all'estero... a spendere vari soldi... fra l'altro... non navigano nel loro... insomma... e questa situazione... è una delle tante ingiustizie... che viviamo in Italia... e su cui... non siamo stati capaci... veramente... di... di fare nulla... perché... il solito stato... di cui avevo parlato prima... si oppone... al far sì... che siano riconosciute... alle coppie di fatto... le stesse diritti... che hanno invece... le coppie... che si sono presentate... di fronte... a un'istituzione... a sancire... la loro riunione... allora... per tutte... questa serie di cose... ho cominciato... a ragionare... su questo... su questo terreno... ecco... in effetti... quello della... discesa in campo... della candidatura in politica... del satirico... è un tema... che c'entra... con ciò di cui abbiamo parlato... una specie di... necessario... prolungamento... della... impotenza... della vignetta... che invece appunto... sente il bisogno di scendere... proprio personalmente... corpo e anima... in campo... vediamo Sergio... se ci sono altre domande... se non ho ragione... io volevo chiedere... due cose... una è una curiosità... che nasce... dall'affermazione... di qualcuno di voi... forse di Pirella... che chiedeva... che diceva... che Forattini... aveva il problema... della verifica... volevo chiedergli... se può essere... meno allusivo... e spiegarmi... che cos'è... questa roba qua... l'altra cosa... invece di più... di tema più ampio... che rivolgo a tutti e tre... mi sono sempre chiesta... da lettrice di Quotidiani... che tipo di autonomia avete... voglio dire... siete interamente liberi... di scegliere... che cosa... che taglio... che grafica... o siete sottoposti... in qualche modo... anche a... come dire... a una scelta del direttore... piuttosto che della redazione... o siete completamente autonomi... grazie... eh beh... vabbè... vabbè... ritorno ora a dire meglio... anche se cercavo di censurarmi... per timidezza... quindi esiste la censura... l'autocensura... sì... censura per... spero... per finezza... dunque... Forattini... ha cominciato appunto... con queste vignette... tutte disegnate... poi... si è dato la parola... eh... purtroppo... ha cavalcato... il treno della volgarità... eh... in quei tempi... nei governi... andava molto la verifica... la verifica... era appunto... una specie di... sedie di incontri... tra... segretari dei partiti... per... vedere se il governo... leggeva... eh... peccato che lui... la scrivesse... verifica... e quindi... eh... giocasse... su una cosa... francamente... ignobile... dal punto di vista... del gusto... della cultura... beh... questo è Forattini... ed è anche peggiorato nel frattempo... quindi... ho cercato appunto... di farla capire... senza essere troppo esplicito... eh... tema del... del rapporto con i direttori... no... a me non è mai successo... essere... censurati... anzi... eh... direttori... Del Buono... Ottone... Berbilini Amidei in parte... eh... Scalfari... Mauro... eh... anzi dicevano... no no... come direi... giuduri... eh... invitandosi a essere ancora più espliciti... ancora più radicali... eh... facciamo soltanto una proposta... che è quella che viene pubblicata... non ne facciamo due o tre... tra cui il direttore può scegliere... o il capo pagina può scegliere... eh... ho l'impressione che... ma tutti noi... insomma... a un certo livello di... di... insomma... di... anzianità... insomma... di collaborazione con giornali... ci sia fiducia reciproca... insomma... vorrei parlare appunto della... della scelta... dell'argomento... la scelta dell'argomento non viene influenzata... credo in nessun caso... nel senso che... eh... fin dall'inizio di... di Repubblica... anche Scalfari vedeva la vignetta il giorno dopo... cioè c'era addirittura questa assoluta... questa assoluta libertà da... poi... per il resto... anche io sono liberissimo di scegliere... l'argomento che voglio... senza doverlo comunicare preventivamente... anche perché non c'è nessun tipo di colloquio... io spedisco questa cosa... la spedisco... perché adesso la faccio... attraverso il computer... la mando direttamente... la vignetta viene ricevuta... e viene ricevuta come... come questo contributo... al giornale... ma non è che mi venga... comunicato... guarda sarebbe meglio... quest'altro argomento... quest'altra cosa... LK credo che... abbia... le venga proposta... una... una terna... una cinquina... cioè di possibilità... perché lei ha un tipo di... intervento diverso sul giornale... cioè nel senso... lei scrive... su una determinata notizia... quindi per quello che io... ne so... per quello che posso pensare... gli dice... guarda... su che cosa preferisci fare... e c'è un numero di cose limitato... perché sono le notizie più importanti... però non è... in realtà non è affatto limitativo... non solo... ma non è detto che uno la faccia su un argomento... cioè... su un argomento specifico... su un argomento... avete visto un paio di vignette... di quelle che ho fatto vedere prima... quello che dice... è morto... è trovato il corpo dopo tre anni... eccetera... quella non corrispondeva in realtà... quel giorno... a una notizia... era una sensazione... era un... come posso dire... un cortocircuito mediatico... cioè era uno di quei giorni... non c'era... non c'era... non c'era questo... questo problema... non hai un piccolo serbatoio di vignette... che vanno bene in qualsiasi momento... assolutamente... ma neanche sul satirico... quando c'era... c'era questo... c'è stato mai questo problema... e lì non era tanto... il fatto... della singola vignetta... ma era dell'insieme di queste... due... poi quattro pagine... con questo... contenuto... che era sempre regolarmente... contro... la linea di Repubblica... insomma... però... non era... non era... è durato moltissimo tempo... è durato dieci anni rispetto... però non... non agli stessi livelli... cioè... l'impatto poi si perde... è successo anche... nei casi migliori... io mi ricordo il male... il famoso famigerato male... che... quando parlavamo... dell'aristocrazia... del lettore di satira... cioè... in realtà è vero... secondo me... è un... un pubblico abbastanza limitato... perché... richiede... intanto richiede... la conoscenza... delle notizie... la conoscenza... e una valutazione... delle notizie... poi richiede... che... la comprensione... di certi meccanismi umoristici... cioè... il male... nel suo massimo fulgore... è arrivato a vendere... centomila copie... e la comprava anche... chiunque... sotto casa... non c'era una distinzione... in ceti sociali... cioè... sì... c'erano chiaramente... delle percentuali... però poi... questa cosa... è scesa... fino ad avere... un limite... fisiologico... altissimo... che mi pare fosse... sulle 25-30 mila copie... però comunque... era un limite... abbastanza comprensivo... che si collocava... su tutte le iniziative... similari... io sto parlando... non sto parlando... degli inserti... non sto parlando... né di satirico... né di tango... né di cuore... sto dicendo... i giornali autonomi... diciamo in qualche modo... e quindi... vuol dire... che il pubblico... è molto limitato... io ho visto... spesso in autobus... persone che arrivano... in Repubblica... la pagina dei commenti... la saltano... non gli interessa... né il commento... né tantomeno la vignetta... e allora... io penso che... su una tiratura... di... e soffri... in quel momento... soffri... soffri molto... quando vedi che... passano la tua pagina... con la tua vignetta... c'è un'altra domanda... io piango... colpisco duramente... non vuoi che racconti... una censura mia? una censura? sì... tentativo... non sono mai stato... cioè che tu hai fatto... su qualcun altro? no... mi stava chiedendo... se c'erano... se ne eravamo subito... censure... certo Sergio... perché volevo parlare... quando era direttore D'Alema... quando era direttore D'Alema... che è stato... ho avuto direttori molto... molto vigorosi... e... è successo... un fatto a Bologna... che... passò alla storia... come la Bolognina... per la situazione della Bolognina... in cui... per la prima volta... nel momento di Tangentopoli... eh... Occhetto... parlisse... eh... ammise... che anche nel Partito Comunista... c'erano casi di corruzione... e disse... compagni... ho un macigno... sullo stomaco... allora avevo fatto... una striscia... allora pubblicavo il lunedì... la facevo la domenica... e il lunedì... uscivo la via striscia... avevo fatto una striscia... in cui si vedeva... Occhetto sdraiato... e sopra la pancia... questo grosso masso... e lui che diceva appunto... la frase... compagni ho un masso... sullo stomaco... poi... l'inquadratura si allargava... e sia il masso che Occhetto... erano sulla pancia di Bobos... che diceva... io ce l'ho due... e... mi fece molto ridere questa cosa... la fece... perché Occhetto... io non ero andato mai molto d'accordo... mi sembrava limitatissimo... sotto certi aspetti... questa storia di... di... di andare... allontanarsi... poi... mi sono un po' anche ricreduto... devo dire... comunque in quel momento lì... ho fatto questa vignetta... l'ho mandata... dopo... un po' mi chiama D'Alema... e dice... Sergio... ma... che cosa mi hai mai mandato... dico... come io... ho mandato la striscia... per il domani... ma... ti sembra una cosa pubblicabile... ma... se te l'ho mandata... vuol dire... mi sembrava pubblicabile... dai... dai... ma non scherziamo... avete visto lui... come fanno tutto l'aria... io... io non lo vedevo... ma me lo immaginavo... insomma... queste... applausi... queste... questa... questa... non è satira... questa è un'offesa gratuita... renditene conto... come è possibile... a parte il fatto che l'uomo... lui segretario la chiamava... l'uomo... a parte il fatto che l'uomo... penserebbe subito che te l'ho suggerita io... scusa... dico... che vuol dire... scusa... mi sta anche offendendo... io ho un sacco d'anni... sto lavorando... di queste cose... ho bisogno che il direttore mi suggerisca cosa fare... cosa non fare... se poi la suggerisci te... vuol dire la condividi... a maggior ragione... pubblichiamola... no... non è possibile... è un basso livello... è terribile... dai... non fa... non fa onore alla tua intelligenza... questa... lui pensava... il poverino che con questa frase fatta... mi conquistava... non fa onore... tu sei capace di fare cose molto più belle... molto più belle... guarda... ripenso... ti richiamo fra mezz'ora... e ha chiuso... io sono entrato un po' in crisi... perché... come boh... anche io sono... ho il dubbio facile... oddio... forse ha ragione... forse potrebbe essere... quindi... chiamo LK... Laura... senti... ho fatto una vignetta così e così... è bellissimo... è bellissimo... non la cambiare... non la cambiare... prima cosa... poi chiamo Altan... che cosa... ci ha fatto questa vignetta... che sta facendo queste storie... e... e... ma... a me sembra... lui sa... è bella... non la toccare... va bene... Altan ragazzi... due parole in più... non le dice... ma... chiudo... tranquillo... richiama D'Alema... allora... allora che... hai fatto la cambiare... no... ma... non la cambiare... guarda... ho sentito anche Altan delle K... cosa... tu parli di faccende private nostre con Altan delle K... private nostre... non ho parlato né di donne né di malattie... non mi sembrava... cioè... se lui giudicava una schifezza quella vignetta... ho sentito degli esperti di cui mi fido... per vedere se effettivamente poteva avere ragione oppure no... quindi non la cambi... ho detto... ma... no... lo sai che questa... è la fine di un'amicizia? in un attimo ho pensato... eri amico di D'Alema? no... infatti... quello che ho pensato... ho pensato... quando eri iniziata volevo chiedere questa amicizia... non era... non era... dopodiché... dopodiché... me lo ricordo molto bene... perché è una cosa... è stata incredibile... ma vuoi che questo fa... lui era stato a casa mia... era venuto a casa mia... io vivo per fortuna... in una casa colonica sulle colline a sud di Firenze... da cui si vede parte della città... ci sono gli olivi... c'è le cose... c'è la ballata sotto... e così lavora molto bene... e lui era stato... una o due volte... ospite a casa mia... e quindi... giocando su questo fatto... ha detto... tu d'altronde ormai... non rappresenti più l'anima del nostro popolo... tu sei un signorotto di campagna... che dall'alto delle tue colline... guardi con disprezzo... il travaglio del nostro partito... ecco... io non so se qualcuno di voi... ha mai letto il comunicato... della vittoria di Armando Diaz... i resti di quello che fu... il più potente esercito d'Europa... risalgono in forma scomposte... quelle valli che avevano deciso... con orgogliosa sicurezza... ecco... la stessa cosa... e ha chiuso... io ho detto a mia moglie... ho detto... Bruna... non si doveva fare quella vacanza... perché credo che... da domani non lavoro più con unità... era ovvio... e invece la mattina dopo... è uscita la striscia... così com'era... non mi ha più parlato... ha finito di fare il direttore... sono passati due anni... poi... al congresso di Rimini... era... alla presidenza... ed io ero fra i giornalisti... lì a lavorare... e a un certo punto dei lavori... lui prende... si alza... comincia a scendere... tutti i giornalisti dietro... dove va... dove va... dove va... e viene da me... e di fronte a tutti i giornalisti... ha detto... Sergio... cerca di darci una mano... in questo momento... che è un momento difficile... è come se non fosse successo nulla... con un sorriso ho detto... Massimo... non fare cazzate... e la mia mano ce l'avrai... io mi scuso... con le altre mani... che erano alzate... dobbiamo... lasciare il teatro carignano... all'incontro successivo... ma anche... si può dire... ma anche... no... guarda malissimo... eh... ma è anche bello e giusto... aver terminato con questo... racconto di Sergio Staino... ringrazio tantissimo... Massimo Bucchi... Emanuele Pirella... e Sergio Staino... grazie a voi... grazie a voi...